Siamo qui con Carlo Livraghi, fondatore titolare di The Sense, società di Bregnano in provincia di Como specializzata nella fornitura di prodotti cosmetici professionali per la cura e il benessere del capello. Signor Livraghi, cos'è The Sense? The Sense è un'azienda cosmetologica che nasce da un parrucchiere per i parrucchieri, un parrucchiere che ha guardato nel mondo della cosmetica, ha capito cosa mancava in questo mondo e ha voluto creare questa linea assolutamente per dare una performance a tutti i tipi di capelli che era carente in questo momento. Quali sono le carenze nel settore? Le donne in questo momento continuano a cambiare look, stile, oggi vogliono essere rosse, domani vogliono essere bionde, vogliono cambiare anche tanti trattamenti, la permanente e i colori e questi trattamenti se non vengono fatti nel modo adeguato chiaramente rovinano il capello. Allora The Sense cosa ha pensato di fare? Ha pensato di partire dal mondo del colore a costruire dei colori che non rovinano i capelli e soprattutto a costruire dei prodotti che vanno a ricostruire lo stelo del capello. Il look è importante quindi ma con i capelli non si scherza? Assolutamente no, il capello è una fibra naturale e dobbiamo rispettarla. Il capello è quella parte di noi che ci può rendere belli per cui deve essere per forza bello lui in primus. The Sense fa anche formazione? Assolutamente sì, The Sense vanta di avere degli stilisti e dei tecnici molto bravi e sono in grado di formare qualsiasi tipo di parrucchiere facendo corsi di taglio base avanzati, di colorimetria, colorimetria avanzata, insomma tutti i corsi che servono a un parrucchiere. Corsi anche online? Assolutamente sì, perché The Sense è un grande progetto ed è un progetto per tutti. Perfetto, grazie Livraghi. Grazie a lei.